Quali sono le motivazioni di questo ricorso all'Attar contro le concessioni balneari nella zona del Lidoriccio e alla foce del fiume Foro? Si tratta di un intervento in un procedimento introdotto da alcuni privati nei confronti del Comune di Ortona. Questo ricorso nel quale noi andiamo ad intervenire ad oggetto all'annullamento di queste concessioni rilasciate dal Comune di Ortona. Noi pensiamo che questa procedura sia stata viziata per molteplici aspetti. Innanzitutto perché questo piano che è risalente al 2011, il piano di emanare comunale, è in corso di revisione. In ogni caso non risulta adeguato al successivo piano regionale del 2015. Quindi già questo è un motivo di contrasto. Poi successivamente è intervenuta anche la legge finanziaria che ha previsto un generale riassetto di tutto l'assetto e il sistema dei nemani. Anche in questo caso il Comune nel varare questa procedura non ha tenuto conto neanche di questa legge. Questo naturalmente attacere di tutte le prescrizioni, di tutte le leggi a tutela dell'ambiente. Sappiamo che nel caso specifico lì nidifica il fratino e c'è tutta una vegetazione rarissima che verrebbe ovviamente ad essere compromessa dallo stallo di ombrelloni e dall'antropizzazione dell'area.